Ma è possibile che mi abbia già ascoltato? No, io dico, ed oggi canta il tuo cuore. No, io dico, ed oggi canta il tuo cuore. No, io dico, ed oggi canta il tuo cuore. Ma è possibile che mi abbia ancora ascoltato? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.